Sabato i nerazzurri scendono in campo per affrontare in amichevole la terza formazione svizzera della stagione. Inter Chiasso, dalle 14.30. Solo su Inter Channel. Prova Inter Channel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare per tutte le informazioni, premi il tasto prima fila del tuo telecomando, vai su sky.it o chiama 199 11 44 00. Prova Inter Channel e poi scegli Sky, liberi di... Super